Se cercate crediti andate su FIFA Coins Buy, un sito economico veloce e sicuro, trovate in descrizione il link più il codice del 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, corgasmi che sono qui con una nuova lista, una nuova classifica. Come avevo annunciato nello scorso video, vi avrei portato la classifica dei miei terzini preferiti, sia destri che sinistri, con la piccola, con il particolare. Cioè non ci sono terzini sinistri, perché mi sono trovato nettamente meglio con i terzini destri e non c'è nessun terzino sinistro che secondo me rientrerebbe in questa classifica. L'unico terzino sinistro che mi è strapiaciuto quest'anno è Filipe Luis del Chelsea, però non rientrerebbe in questa classifica dei miei top 5. Quindi direi di partire subito, lasciando un bel like, 300 mi piace uscirà una nuova classifica, che sarà penso dei centrocampisti, quindi CC, CDC e COC. Se avete comunque già qualche consiglio da darmi, fatemelo nei commenti. Quindi direi di partire subito con il quinto nella mia classifica, un bronzone, l'unico bronzone di questa classifica, cioè di Trimmel, giocatore austriaco che gioca nell'Union Berlino. Davvero, davvero forte, mi è piaciuto tantissimo questo giocatore per il semplice motivo che è completissimo. Come potete vedere ha 60 o più in tutte le statistiche, tranne la difesa, ma comunque secondo me conta poco perché è un giocatore molto veloce e in difesa riesce a fare tanti recuperi. E quindi secondo me potrebbe essere qualcosa di più quel 56 di difesa. Però, come potete vedere, il resto delle statistiche sono altissime, tra cui spicca un 67 di dribbli non facile da trovare in un terzino. Un ottimo passaggio, un ottimo tiro, anch'esso una statistica difficile da trovare in un terzino e soprattutto un 77 di fisico veramente impressionante. A sinistra, come sempre, trovate le statistiche più alte, le statistiche più importanti e migliori di questo giocatore e a destra 3 stelle piede debole, 3 stelle abilità. Questo giocatore l'ho provato tanto perché quando si fanno le squadre con bolli, per esempio il giocatore più veloce del gioco, necessariamente si mette questo Trimmel come terzino destro e devo dire che è veramente, veramente fortissimo. Comunque, andiamo con il quarto giocatore in questa classifica, andiamo in Portogallo e troviamo un oro, cioè Danilo del Porto, che è davvero incredibile. Lui ha ricevuto, se non sbaglio, 2 o 3 versioni IF, qualcosa del genere, quindi necessariamente dovevano upgradearlo a gennaio, cosa che hanno fatto, è diventato questo 79 con statistiche veramente devastanti. Ogni statistica ha 75 o più, la statistica più bassa è il tiro con 75 come vedete e per un terzino destro è davvero tantissimo. Questo perché lui in precedenza giocava a centrocampo da quello che so, quindi molte statistiche da giocatore tra virgolette offensivo gli sono rimaste. È un giocatore che ha un long shot da paura, ha un tiro in generale da paura, una discreta velocità, un ottimo dribbling, un ottimo passaggio, fortissimo in difese e fortissimo, cioè un buon fisico. Inoltre ha 4 stelle, piede debole, 3 stelle abilità. Sinistra troviamo tutte le sue statistiche migliori, 86 di potenza tiro per un terzino destro, non è facilissimo da trovare e perciò davvero mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro è un giocatore che dovrebbe essere già stato acquistato dal Real Madrid e quindi l'anno prossimo lo troveremo in Liga BBVA, penso, credo di sì. Fatemi sapere nei commenti se mi sbaglio o se invece ho ragione. Comunque detto questo ci spostiamo sul podio, troviamo il giocatore in terza posizione, secondo me un giocatore che ha fatto la storia di FIFA Ultimate Team, cioè Dick Mayer. Eccolo qui, questo terzino argento, ha fatto la storia perché io l'ho sempre utilizzato, almeno ha fatto la mia storia, l'ho sempre utilizzato da quando gioco ad Ultimate Team, è sempre stato argento tra l'altro questo giocatore, se non erro, e mi è sempre piaciuto tantissimo, anche se ha sempre avuto un prezzo alquanto proibitivo per essere un giocatore comunque argento, comunque un terzino. Quest'anno credo che vada tipo sui 20.000 crediti, cifra abbastanza alta, però li vale tutti perché è un giocatore velocissimo, con un buon passaggio, forte in difesa, soprattutto grazie alla sua velocità, nei recuperi, discreto dribbling, buon fisico, è anche alto 1.88, è difficile trovare un giocatore così alto e così veloce. E comunque con delle statistiche altissime, per esempio il 79 di Cross, che secondo me è una statistica, per essere un giocatore, ovviamente tenendo conto che è un giocatore argento, molto molto alta, quindi davvero interessante. Un giocatore che se non avete provato, fatelo, se avete i crediti ovviamente, fatelo perché non ve ne pentirete assolutamente. Mentre andiamo in seconda posizione, troviamo un giocatore che anche esso ha ricevuto un upgrade quest'anno, stiamo parlando di Carvajal, ovvero il terzino destro del Real Madrid. A me piace tantissimo, come sapete l'ho utilizzato davvero tanto quest'anno nei vari squad builder in cui ho trattato parte della Liga BBVA, perché Carvajal mi piace tantissimo per il semplice motivo che è quasi completo, nel senso gli manca il tiro, però vabbè ci sta per un terzino. Il resto delle statistiche sono buonissime, questa è una versione upgrade da 79 se non erro a 80, non c'è stato un grande cambiamento, però le statistiche come potete vedere sono buonissime, tra cui spicca un 86 di velocità scatto come vediamo a sinistra, come il Cross molto alto, 86 di agilità che è tanto, comunque sono statistiche veramente molto alte, 82 di fisico, anche se non è un giocatore stra alto, però ci sta veramente tanto, è un giocatore che secondo me è uno dei migliori del gioco, perché mi sono sempre trovato molto bene, con esso non mi ha mai sbagliato penso niente, cose clamorose non è mai fatte, quindi lo reputo uno dei migliori terzini del gioco, sia destro che sinistro ovviamente. Mentre andiamo con il giocatore migliore, secondo me è il terzino migliore che possiamo trovare su FIFA Ultimate Team, cioè Kyle Walker, ma è così praticamente da FIFA 12, mi sono sempre trovato alla grande con Walker per il semplice motivo che è velocissimo e quindi nessun giocatore può o riesce facilmente a saltarlo in velocità, perché lui ti recupera con grandissima facilità, ovviamente vediamo a sinistra quel 93 di velocità scato impressionante, quindi recupera praticamente tutti, e tra l'altro vorrei sottolineare una cosa, è un giocatore da non sottovalutare il suo tiro, perché molto spesso quando io faccio gli angoli la batto più indietro, dove arrivano i terzini a tirare e lui ha un discreto long shot, ma soprattutto un 85 di potenza tiro, come vediamo qui a sinistra, e che mi ha fruttato davvero tanti gol con questo giocatore, cosa che vi consiglio di fare anche voi, perché vi frutterà anche a voi penso qualche gol. L'unico problema di questo giocatore sono le due stelle piede debole, che non sono il massimo della vita, però come vedete il resto delle statistiche sono impressionanti, anche un 83 di salto, forte in difesa, quindi davvero un terzino veramente, siccome è completo, anche per il tiro, ripeto come ho detto prima, e vi consiglio di provarlo se non l'avete mai utilizzato. Comunque raga, questa è la mia classifica, spero vi sia piaciuta, spero siete d'accordo con me, se non lo siete fatemi sapere nei commenti, se lo siete in parte pure, e fatemi sapere quali sono i vostri terzini, anche magari scrivendomi terzini sinistri, visto che io non ne ho utilizzati, non ne ho messi in questa classifica, fatemelo subito nei commenti. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, a 300 mi piace uscirà un nuovo video, e a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, ci vediamo al prossimo video, bella raga!